allora io oggi vi vorrei parlare di quella che è stata una stagione sicuramente entusiasmante nel moto mondiale di tanti anni fa devo premettere che all'epoca parliamo del 1978 ancora praticamente i gran premi venivano trasmessi ogni tanto per tv se ne sapeva poco ma comunque era quello l'inizio di quella che è stata poi chiamata la golden era cioè dell'arrivo degli americani ma come arrivarono questi americani in realtà dall'anno prima già c'era stato Pat Hennen e nel 78 la Suzuki che era reduce da due titoli mondiali consecutivi con Barry Sheen nel 76 e nel 77 si era presentata con una squadra fortissima perché c'era appunto Barry Sheen, c'era Will Hartog, c'era Pat Hennen e c'era anche Steve Baker la Yamaha schierava tre piloti Johnny Cecotto, Takazumi Katayama e Kenny Robbers su Kenny Robbers su quel debutto in classe regina sono state dette tante cose ma si sono dimenticati molti particolari per esempio uno dei particolari non da poco era che Kenny arrivò in Europa con una sola moto è vero lui aveva deciso di provare a vincere addirittura non uno ma tre campionati perché si schierava in 250 sempre con la Yamaha e anche in formula 750 inizialmente Kenny disse che la 250 lui serviva per imparare i tracciati ed infetti era vero perché Kenny non conosceva nessuno dei tracciati europei però naturalmente con le prime vittorie ci fece la bocca per rendersi poi conto più avanti nel campionato che effettivamente non era possibile provare a vincere 250 500 e formula 750 quindi si concentrò solamente sulla formula 750 un altro particolare interessante di quel periodo e sul quale si sono dette molte cose non tutte corrette era il fatto che Kenny unico fra tutti utilizzava gomme Goodyear vantaggio svantaggio diciamo il 50 per cento perché Kenny avendo una sola motocicletta aveva sempre problemi per cercare di scegliere la gomma più adatta per circuiti che non conosceva e sul quale non aveva ovviamente mai provato mentre al contrario la Suzuki con più piloti gommati Michelin aveva sicuramente un punto a suo favore il mondiale peraltro era iniziato in maniera favorevole per Barry Sheen che aveva vinto in Venezuela mentre Kenny si era ritirato aveva avuto dei problemi però subito dopo successivamente Kenny aveva dimostrato oltre che di essere un vincente di avere maggiori doti di passista perché non sbagliò più quasi niente e il campionato andò avanti in maniera abbastanza equilibrata e parliamo di un campionato su sole 11 prove fino al Gran Premio di Svezia. Il Gran Premio di circuito cittadino di Matra Silverstone in Inghilterra in Svezia un circuito che subito Kenny dimostrò di non amare perché lui era abituato a far girare la Yamaha quattro cilindri in linea facendo scivolare la ruota posteriore cascoga aveva un bruttissimo asfalto quindi non gli riusciva lì Kenny non fece punti quindi Barry Sheen praticamente lo raggiunse perché Kenny aveva appena due o tre punti di vantaggio dopo la Svezia. Un vantaggio che però nella successiva Finlandia Barry non riuscì a colmare perché entrambi non finirono la gara e quindi rimasero con la stessa distanza. A quel punto la vera disfida avvenne in Inghilterra a casa di Sheen ma la Yamaha aveva capito che il titolo poteva non sfuggirgli se avesse aiutato maggiormente Kenny Roberts e per Silverstone Roberts ottenne una delle Yamaha di riserva fatte arrivare da uno dei collaudatori dal Giappone. La gara fu una gara assolutamente incredibile poi ve la racconteremo con un altro pilota perché fu corsa sotto una pioggia torrenziale tant'è che alla fine non riuscirono i cronometristi ricordiamo che il cronometraggio era manuale addirittura inizialmente a capire chi c'era sul podio ma comunque alla fine la vittoria fu assegnata a Kenny Roberts davanti al quasi sconosciuto Manship terzo Barry Sheen. A quel punto con un discreto vantaggio mi sembra che fossero otto punti si arrivò all'ultima gara che si correva al Nurburgring. Il Nurburgring era un circuito difficilissimo parliamo dell'Inferno Verde parliamo del tracciato lungo e Barry avrebbe dovuto attaccare ma non se la sentì e il risultato fu che la gara fu vinta da una Suzuki ma quella di Virginio Ferrari. Kenny Roberts arrivò terzo mi sembra e Barry Sheen quarto e a quel punto Kenny vinse il mondiale e fu quello l'inizio della scuola americana nonostante poi il primo americano a vincere un gran premio sia stato in realtà l'anno prima Pat Tennant. Ma quella storia della golden era americana era iniziata appunto a fine del 1978 e sarebbe andata avanti per quasi dieci anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.